Mentre mezza Italia torna sott'acqua sotto l'ennesima perturbazione che annuncia forti piogge e con tante regioni che sono già in allarme rosso per rischio di esondazione frane, torna in primo piano la polemica sulla gestione del territorio da parte delle amministrazioni locali perché, come succede spesso in Italia, la delega alla manutenzione del territorio è stata fidata dallo Stato agli enti locali, regioni e comuni, i quali ovviamente hanno fatto poco o nulla negli ultimi tempi e, se si va a vedere il caso dell'alluvione dell'Emilia Romagna, emerge ancora come nel 2021 e il 2022 la Giunta, Bonaccini e soprattutto la vicepresidente della regione stessa, una certa Ellis Line che aveva la competenza per quanto riguardava la gestione dell'ambiente, avevano restituito allo Stato la bellezza di 55 milioni dei 71,9 ricevuti dallo Stato proprio per la manutenzione e bonifica dei corsi d'acqua, spesso volentieri abbandonati a se stessi con tantissimi corsi d'acqua pieni di visitazione, letti non dragati e soprattutto argini non sufficientemente rinforzati. Ne parliamo in questa puntata dello schiacciassassi, ma prima vi ricordo di mettere il mi piace e di condividere i contenuti con i vostri amici. A tra poco dopo la sigla. Cari amici vicini e lontani, bentornati alla nuova puntata dello schiacciassassi da parte di Stefano Elena. Mentre mezzo Italia sta tornando sott'acqua con l'ennesima perturbazione piuttosto forte e tante regioni che sono in allarme rosso per evitare alluvioni e soprattutto frane, emerge ancora una volta come gli enti locali abbiano fatto poco o nulla per effettuare la manutenzione del territorio che spetta alle regioni e in misura minore ai comuni. E come spesso accade, tutti quei lavori che sono diciamo così ciechi di secondo ordine che non danno la possibilità di avere i tagli di nastri, inaugurazioni e quant'altro, ovviamente finiscono in secondo piano rispetto alle priorità di fare inaugurazioni, di fare ristrutturazioni, di fare cose che la gente sente e che all'elettore viene dato come merci di scambio per blandirne il consenso. E se ad ogni pioggia un po' più forte del normale le città vanno sott'acqua e le campagne si allagano, beh qualcosa si deve essere. Anche perché per fare una corretta manutenzione del territorio non occorre quei grandi investimenti, bisogna invece fare opere continue e periodiche sul territorio stesso e in particolare sui corsi d'acqua che negli ultimi tempi sono stati spesso e volentieri abbandonati se stessi con vegetazione straripante posta anche all'interno dello stesso alveo, cosa che naturalmente ne rallenta lo scorrimento dell'acqua e soprattutto nel caso di forte afflusso di materiale torrentizio come tronchi, sassi e quant'altro costituiscono degli elementi che consentono di fare barriera e quindi di impedire lo scorrimento corretto dell'acqua e da un'altra parte la manutenzione corretta degli alvei soprattutto in termini di dragaggio perché in molte parti d'Italia, soprattutto in quelle pianura alluvionali, i corsi d'acqua sono pensili rispetto al piano della campagna e con il passare del tempo questi letti si sono progressivamente ulteriormente alzati anche perché l'apporto di materiale solido derivante dalle zone di montagna e delle colline hanno fatto sì che ci sia tanto materiale alluvionale che non viene più utilizzato dall'uomo che una volta veniva dragato e utilizzato per fare riporti nelle aree di campagna oppure per attività edili. Però con le norme ambientali che sono cambiate e soprattutto con l'opposizione di gran parte delle forze ambientaliste che al giorno d'oggi fanno parte delle giunte di centro-sinistra, queste pratiche sono state abbandonate e i risultati si sono visti sotto gli occhi di tutti, con fiumi e torrenti che esondano con poca portata in più di acqua ma soprattutto anche con argini che crollano perché non si è provveduto a fare le opere di consolidamento e di rafforzamento degli stessi. Certo, sono opere che bene o male pagano poco in termini di visibilità, di tagli di nastri, di consenso elettorale, però sono estremamente efficaci per quanto riguarda la prevenzione dei danni, quei danni che dopo trasformano in fortissimi problemi economici, sociali eppure anche ambientali perché un territorio allagato, una campagna allagata così come è accaduto nel caso dell'Emilia-Romagna difficilmente torna a essere utilizzabile a scopi agricoli e soprattutto impone grandissimi lavori di bonifica e di rimesse impristino per rassicurare la produzione agricola, con notevoli anche problemi sui bilanci delle aziende agricole e soprattutto anche sulle tasche di consumatori che si trovano i prezzi della frutta e degli ortaggi andati alle stelle. Ma fa specie vedere una cosa soprattutto, che tra il 2021 e 2022 la giunta regionale dell'Emilia-Romagna guidata da Stefano Bonaccini, adesso trasmigrato all'Europarlamento, ma soprattutto di una certa Elislein, allora vicepresidente della giunta regionale guidata da Bonaccini in capo alle deleghe della tutela dell'ambiente, in Emilia-Romagna si è rifiutato di fare le opere di manutenzione e di rafforzamento degli argini dei torrenti e dei fiumi per cui lo Stato aveva fornito la bellezza di 71,9 milioni di euro, tant'è che dopo alcuni anni di inutilizzo la Regione ha restituito allo Stato la bellezza di 55 milioni di euro. E se questi 55 milioni fossero stati effettivamente utilizzati in barba anche a tanti veti dell'area ambientalista degli governi locali, forse al giorno d'oggi gran parte degli effetti accaduti nelle due ultime alluvioni si sarebbero potuti evitare. E qua, naturalmente, ancora una volta sul banco degli imputati, più che l'ambiente, più che il fatto, più che gli eventi dei cambiamenti climatici, pesa ancora una volta l'incapacità di una politica, soprattutto di una certa politica, di mettere a terra investimenti, di mettere a terra opere che vadano un po' a confliggere con il proprio credo a senso unico. E se non si abbiura questo credo a senso unico che dice che l'ambiente non può essere toccato, anzi che alcuni addirittura propongono, così come sulla onda del Green Deal europeo, di rinnovare, naturalizzare i corsi d'acqua, di abbattere gli argini, di far sì che il corso d'acqua possa riprendere il suo scorrere naturale all'interno dell'areale che attraversa, beh, ovviamente questa è una battaglia che vede l'uomo perdente e soprattutto vede un'umanità a soccombere alle forze della natura, quando bene o male nel corso dei secoli è stato proprio l'opera dell'uomo che ha recuperato alla vivività e soprattutto alla salubrità gran parte di quei territori di pianura, magari anche un po' sotto il livello del mare, che erano malsani, che erano dei bacini di malattie e con le opere di regimazione, di bonifica e soprattutto di allontanamento dell'acqua tramite argini, canali e quant'altro, si è potuto recuperare alla vivibilità e soprattutto all'utilizzo umano, agricolo, industriale e quant'altro, vasta area del territorio che altrimenti non lo sarebbero potuto essere. E qua, naturalmente, la bilancia dell'ambientalismo a senso unico, ovviamente, pesa e non poco su quelli che sono gli effetti che si va a toccare ogni giorno. E oggi vedere tutta quella corsa allo scaricabarie dicendo che sono mancati gli investimenti, che bisogna fare un piano, pensiamo semplicemente a quello che sta dicendo la presidente facente funzioni dell'Emilia Romagna, Irene Priolo, che dice che bisogna fare un piano di investimenti di 650 milioni per mettere assinorma il territorio per metterlo in sicurezza? Beh, ovviamente, sarebbe da ricordare la stessa Priolo, che non è sicuramente un personaggio caduto da giove nel campo della politica regionale dell'Emilia Romagna, soprattutto del PD, che se avessero incominciato a investire a suo tempo correttamente tutti quei 72 milioni stanziati dallo Stato per la manutenzione di corsi d'acqua, probabilmente oggi non saremmero in questa situazione. E soprattutto la stessa Priolo potrebbe avanzarsi di aver fatto un'opera accorta e puntuale di manutenzione del territorio, ma non ci sono solamente le alluvioni, la manutenzione del corso d'acqua, ci sono anche le frane dove, bene o male, gran parte del territorio italiano è considerato a rischio. Anche qua bisognerebbe incominciare a fare un'opera strutturale di manutenzione del territorio utilizzando tiranti, ma soprattutto utilizzando la piantumazione dei profili che sono a rischio, utilizzando quelle piante che hanno delle radici che vanno molto in profondità, che potrebbe assicurare dalla parte il consolidamento del territorio stesso, ma che potrebbero anche contribuire all'abbattimento della carbonica assorbita dal legno delle piante. Ecco, sono tutti interventi che di piccolo cabotaggio, di poca ridondanza mediatica, che però servono a mantenere il territorio in salute, ad evitare i disastri e soprattutto a consegnare anche alle generazioni future, un territorio in una situazione migliore di quella che probabilmente la generazione attuale l'ha ricevuto. Vedremo cosa succederà nei prossimi tempi, anche se non è lecito sperare troppo in un miglioramento. Cari amici vicini e lontani, anche questa puntata dello Schiaccia Sassi va a terminare. Prima di salutarvi vi ricordo di mettere il mi piace e di condividere i contenuti con i vostri amici. Se volete approfondire il tema trattato in questo breve spazio vi ricordo che sul Nordest Quotidiano e sul nuovo Diario d'Italia trovate maggiori dettagli, intanto da parte di Stefano Elena un saluto e un arrivederci alla prossima puntata sempre che lo vogliamo. Ciao!